Ciao a tutti, sono Riccardo Piazza Ciao, sono Miriam Fogu Ciao, sono Giulia Medici Ciao, sono Filippo Scheng Ciao, sono Giovanni Placci e anche io faccio parte della Nazionale di Arampicata Sportiva Italiana Oggi qui a Prato si è tenuto il primo raduno di quest'anno in cui abbiamo fatto un lavoro non più basato sulle simulazioni ma più che altro sullo studio di movimenti differenti più sulla sensibilità e sui movimenti dinamici È stato un lavoro molto utile perché finalmente ci siamo potuti rivedere e scalare insieme quindi è stato bello avere dei consigli da vicino da parte dei tecnici ma anche da parte dei propri compagni È stato anche molto bello avere a disposizione i tracciatori così da poterci confrontare con loro quindi loro ci hanno fatto vedere come magari pensavano di fare un movimento e noi abbiamo fatto vedere come noi pensavamo di risolvere in altri modi quindi è stato molto utile Quest'anno la Federazione Italiana è diventata federazione ufficialmente e dunque è stato improntato un percorso di miglioramento sia a livello organizzativo ma anche da parte su di noi atleti e questo è già visibile appunto grazie a questi raduni che seguiranno un percorso molto fitto e di formazione sia per i tecnici che per noi atleti Sicuramente questo è il primo di una lunga serie e che porterà speriamo a finire a Parigi ovviamente quello è l'obiettivo di tutti e sarebbe un sogno Quest'anno appunto a partecipare a meno alla Coppa del Mondo e a delle tappe di Coppa Europa Senior sto cercando di migliorarmi molto sui blocchi più di sensibilità quindi i blocchi di placca che sono il mio punto più debole Quest'anno appunto a fare dei buoni risultati in Coppa Italia in modo che mi permettano di essere convocata per le Coppa del Mondo innanzitutto accedere alla semifinale e nel caso venissi convocata in Coppa Europa punterei alla finale in Coppa Europa Quest'anno spero di far bene le prime tappe di Coppa Italia così da poter partecipare magari a qualche Coppa Europa o Coppa del Mondo e poter fare magari una semifinale sarebbe fantastico Quest'anno cerco di far bene le Coppa Italia per poi poter partecipare al mio obiettivo principale che sono le Coppe del Mondo Sicuramente gli obiettivi per quest'anno sono di partecipare a almeno una Coppa del Mondo di Goulder e fare un buon risultato in Coppa del Mondo di Lid l'anno scorso sono riuscito ad entrare in semifinale quest'anno vorrei entrare nei primi 16 almeno in una Coppa del Mondo e quindi mi allenerò duro per raggiungere questi obiettivi Un saluto a tutti e seguiteci sui canali ufficiali della federazione a tutti e se senti appena ufficiali della federazione